Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute del Partito Democratico, buonasera Marianna Aprile, giornalista di oggi, buonasera Furio Colombo, giornalista e saggista e buonasera, bentornata Alessandra Tarquini, professoressa di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Allora stasera ci occuperemo di Conte, in tanti ce ne occupiamo e se ne occupano perché è un vero leader oppure è un trasformista, è un salvatore del paese nel momento più difficile oppure ci porterà al disastro come pensano molti, è l'avvocato del popolo o invece un argine al populismo, quindi chi è davvero Giuseppe Conte, anche perché sembra essere un po' avvolto nel mistero. Subito dopo la pubblicità. Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottosegretaria Zampa, sono giorni decisivi per il futuro politico di Conte che sta faticosamente cercando di puntellare la sua maggioranza, ce la farà e quali qualità sta mettendo in campo per questo negoziato? Intanto mi piacerebbe dire ce la faremo e io sono convinta che ce la faremo, tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, puntellare la maggioranza significa in realtà lavorare in questo momento in un progetto che abbia un futuro. Io credo che le qualità del Presidente Conte in parte si siano viste, in fondo il Presidente ha saputo conquistare in Parlamento due grandi successi. Uno è stato quello di mettere fuori gioco Matteo Salvini e il secondo è stato quello di non cadere sotto i colpi dell'uscita provocati dall'uscita dalla maggioranza di Italia Viva e quindi in realtà ha avuto una capacità di strategia molto grande. Io penso che oggi però la nostra possibilità di farcela sia legata la capacità di mettere in campo un progetto serio che guarda il futuro di questo Paese e che parte dalle sofferenze di oggi e dalle sofferenze di ieri. Noi dobbiamo sapere trasmettere da un lato la speranza e anche l'idea che sappiamo rinnovarci, che sappiamo costruire e che sappiamo superare insieme questa prova. Quindi anche a chi vorrà partecipare deve essere data una prospettiva, non soltanto l'idea che sei uno che serve in qualche modo a sostenere la maggioranza. Mariana Aprile, tu non sei mai stata morbida con Conte e anche il suo governo, ma in particolare col Presidente del Consiglio. Pensi che ce la farà? Si sta rivelando un vero leader o uno spregiudicato trasformista. È un capo, finché ha i numeri è un capo, il leader è un'altra cosa, il leader è un popolo che non è la popolarità, è un popolo, cioè il leader incarna un sistema di valori, una storia, una memoria, quando c'è non sempre c'è. Giuseppe Conte è un capo ergonomico, ha riempito e sta riempendo i vuoti, stavo dicendo i vuoti, forse anche quelli, ma quello lo vedremo forse, ma riempie i vuoti che i partiti hanno lasciato intorno a lui e che gli lasciano riempire per incompetenza, per immobilismo o per errore di calcolo, perché a qualcuno Giuseppe Conte è sfuggito decisamente di mano. Io non so se sia spregiudicato trasformista, sicuramente trasformista, cioè è stato trampiano quando c'era Trump e ora è un entusiasta Bideniano perché c'è Biden, andava ad assicurare la Merkel in Europa sul nostro europeismo mentre chi lo sosteneva incontrava i gile gialli, si è detto fieramente sovranista e populista e adesso è un sincero, non abbiamo motivo di dubitarne, europeista. È un ozelig ergonomico che tutti aspettiamo di vedere fino a che punto può mutare forma e colore per rimanere dov'è o per andare avanti, perché non sappiamo se si fermerà la presidenza del Consiglio o se ha altri progetti su se stesso. Furio Colombo, sei d'accordo con questo giudizio severo? È una specie di zelig ergonomico? Conte, riempie i vuoti lasciati da partiti che non sono stati capaci o non vogliono mettersi al suo posto? Il mio parere è che sono contro Conte tutti coloro che lo sono per loro personali ragioni di politiche o ragioni del loro gruppo politico. Non conosco persone che dicono, voglio dire, nella conversazione corrente, nell'incontro e scontro corrente che ci ha con le altre persone parlando di politica, non conosco nessuno che dice non posso soffrire Conte, adesso basta voglio liberarmene. No, la frase si dice solo se segue anche una ragione politica, che è quella di Renzi, oppure quella di Salvini, oppure quella della Meloni, oppure quella di qualcuno che ha elaborato o inventato delle sue ragioni per cui Conte porta alla rovina. È una situazione completamente inventata e probabilmente ciò che irrita una quantità di persone che non sarebbero poi così politicamente militanti è il fatto che Conte sia un uomo normale, è un uomo che non ha delle rabbie, che non ha degli spunti improvvisi di cose inconcepibili, che non insulta, che non è sarcastico, che non profitta di un'occasione per insultare, benché sia fermo, preciso e a volte anche duro, ma duro con delle motivazioni. Io sono colpito dalla normalità psichica di Conte attraverso, ripensando a una serie di governi e di governanti nei quali è stata sempre la cosa che un po' veniva a mancare. Quindi insomma il giudizio è positivo da quello che abbiamo capito. L'ostilità che improvvisamente si formava, il cambiare... Furio Colombo, scusa ti interrompo perché intanto vedevo molta perplessità da parte di Mariana Aprile e temo anche della professoressa Tarquini perché lei ha un giudizio così positivo del Presidente del Consiglio Conte. Diceva Furio Colombo che è un uomo normale, che chi è contro di lui è o per ragioni politico-partitiche o insomma ragioni personali. Come lo spiegherebbe lei ai suoi studenti? Forse più con le parole di Mariana Aprile che con quelle di Furio Colombo. Nel senso, secondo me, non è né uno statista né anche un trasformista, come appunto alcuni sottolineano. Io direi che è un illustre, importante uomo di legge, un avvocato abituato alla mediazione e quindi anche all'espressione degli interessi, nel senso migliore della parola. In politica essere capaci di mediare è un fatto decisamente importante. Però credo che rappresenti una fase, appunto, della nostra storia nella quale la politica, insomma, mostra le proprie fragilità. È un tecnico, non è espressione né di una né dell'altra forza della maggioranza che adesso sta guidando, racconta una tendenza che... Almeno per ora. Almeno per ora. Beh, anche questo passaggio non è un problema qui di moralismo, di trasformismo, no? Ma il passaggio da un governo di centrodestra a uno di centrosinistra con affermazioni anche molto diverse, lo ricordava appunto Mariana Aprile, qualcosa ci dice. E cioè ci dice che conta di più la sua capacità di mediare, di costruire, di tenere insieme questa maggioranza rispetto, almeno a me così sembra, rispetto a quella politica del Novecento che appunto si insegna agli studenti. Una politica che è visione, trasformazione della realtà, valori che non cambiano appunto dall'oggi al domani. Forse non è una sua responsabilità, ma forse racconta la fragilità della politica e dei partiti appunto che lo esprimono. Anche questa crisi di governo un po' sembra raccontare questo. Onorevole Zampa, questo è un punto che viene sottolineato da più parti, che Conte esiste ed è anche così popolare perché voi partiti siete invece così impopolari e non siete stati in grado, adesso parliamo del suo partito, il Partito Democratico, di esprimere un leader, un condottiero o una condottiera, qualcuno, che riuscisse a fare un governo dopo Saldini e che riuscisse anche a guadagnarsi il favore della maggioranza degli italiani perché ricordiamolo, Conte ancora oggi gode di grande popolarità. Io credo che il Presidente Conte abbia avuto la capacità, tra l'altro, e stia avendo la capacità di guidare in qualche modo un cambiamento. L'accento che ha messo adesso la professoressa sulla debolezza o la fragilità è in realtà importante, dipende come lo si legge. C'è un cambiamento e credo che il Presidente Conte, soprattutto per la parte che lo ha espresso nell'esordio della sua carriera politica, stia guidando quel movimento in qualche modo e stia guidando un cambiamento che poi sta anche alle forze politiche a questo punto, di sapere interpretare, costruendo un lavoro politico che guarda avanti. Cioè, quando noi diciamo che vogliamo costruire qualcosa insieme, dovremo anche avviare un lavoro politico. Ma il Presidente Conte esiste perché voi siete troppo deboli, l'onorevole Zampa? No, no. Io a questo non lo credo. Io credo che noi abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo fatto la cosa giusta perché il Presidente Conte, quando lo si accusa di avere partecipato a un governo con Salvini, in realtà il Presidente Conte è l'uomo che ha messo fuori gioco anche Salvini. Ed è lui che è venuto, se mai, diciamo, su queste posizioni. Non siamo noi che siamo andati incontro a un cambiamento dei nostri valori, dei nostri principi speratori. Esattamente al contrario. Tant'è vero che oggi noi abbiamo portato a casa, per esempio, il superamento dei decreti Salvini, che senza clamore hanno cancellato una cosa che per il Partito Democratico è sempre stata assolutamente inaccettabile, inammissibile politicamente e in termini anche di principi di diritti umani. Quindi in realtà c'è un cambiamento che è avvenuto da parte di una persona, di un uomo, che ha saputo riconoscere la pericolosità di un progetto e lo ha proprio in Parlamento, tra l'altro. Messo a nudo sotto gli occhi... No, non è che noi l'abbiamo convinto. Io credo che si sia convinto da solo che questo passaggio sia stato un passaggio molto importante. Si cambia. È sbagliato, onorevole Zampa. Si cambia perché si comprende. È sbagliato, e lo chiedo a una prodiana di ferro, da sempre, quale lei è. È sbagliato chiamarlo un pro di due? Le vicende politiche di queste due persone sono due vicende politiche completamente diverse, naturalmente. Ciò che rende possibile questa espressione di pro di due è legata al fatto che sono persone pazienti, molto dure però nella sostanza. Se lei va a vedere il percorso politico del Presidente Conte si accorgerà che c'è stata una pazienza incredibile fino all'ultimo, però poi quando ha deciso che si andava in Parlamento e in Parlamento ci si contava, così è stato. Così fece il Presidente Prodi. Come ha avuto però modo di spiegare, il Presidente Prodi sapeva che andava in Parlamento ad accogliere una sconfitta, nel senso che il Presidente Prodi entrò nel 2008 in Senato sapendo che non avrebbe avuto i numeri. Quello che voleva il Presidente Prodi è la stessa cosa che ha voluto questa volta Conte, cioè che fosse dentro al Parlamento che questa crisi avveniva e che gli italiani potessero vedere e giudicare. Io credo che sia avvenuto anche in questa seconda, dopodiché le storie sono storie del tutto diverse e anche il sistema politico è del tutto mutato. Lei pensi che giocavamo in un ambito diciamo semi maggioritario, oggi noi stiamo parlando di proporzionale? Mariana Aprile, sei d'accordo con quello che ci ha raccontato adesso l'On. Zampa? E' vero che Conte è l'unico che ha umiliato politicamente in pubblico al Senato nell'estate del 2019 un leader che allora era popolarissimo, che era Salvini. E quindi forse è anche l'uomo migliore per poter guidare il centro-sinistra in eventuali elezioni anticipate. Io mi auguro che non siamo arrivati al punto in cui una pubblica opigliazione dell'avversario, peraltro all'epoca ancora alleato, non avversario, faccia curriculum. Cioè è un passaggio come tanti, non credo che sia una nota di merito. Di sento anche abbastanza con la ricostruzione per cui sarebbe stata la pazienza e la tempra di Giuseppe Conte a far fuori politicamente Salvini. Salvini si è fatto fuori benissimo da solo quell'estate, lo ricordiamo tutti, è stato un azzardo che non è stato in grado di portare a termine quello che l'ha fatto fuori. Per quanto riguarda la leadership a sinistra, ci vuole un altro pedigree, temo. Nel pedigree di un leader veramente progressista stonano parecchio le foto ricordo con il cartello dei decreti sicurezza, così come stonano i molti mesi che sono serviti per modificarli, nonostante i rilievi del Presidente Mattarella fossero stati contestuali alla loro firma. E anche la motivazione della pandemia che si è inserita nel mezzo di quel periodo di tempo regge fino a un certo punto, perché ci hanno stati diversi mesi anche prima della pandemia per modificarli quei decreti sicurezza. Ma Mariana Aprile, scusa, il Covid non ha cambiato tutto? Il Covid, secondo me, ha convinto Giuseppe Conte di poter essere un politico, mentre finché non è scoppiata la pandemia, lui interpretava ancora in maniera, secondo me, convinta il ruolo di cerniera tra le varie forze che lo sostenevano nel Conte 1 e poi nel Conte 2, con la presa in carico della gestione della pandemia, su cui soprattutto nella prima fase ha messo la faccia in maniera molto personale e personalistica, quel passaggio lì lo ha trasformato in un politico e adesso agisce da politico, non più da cerniera né da punto di equilibrio. Può essere punto di equilibrio di vari interessi, ma non è più un punto di equilibrio di varie forze, secondo me, come era stato nel Conte 1 finché è durato. Sei d'accordo, Furio Colombo, e in Conte, nella sua storia, nel suo curriculum, nel suo percorso, c'è qualche segreto che non conosciamo, c'è qualcosa di misterioso? Perché si dice spesso, no, chi viene un po' dal nulla, da un punto di vista politico, come è il caso di Conte, chissà da quali forze è stato portato, da quali forze più o meno occulte viene sostenuto, c'è qualcosa di misterioso? Beh, in un paese come il nostro, nel quale le cose esplodono sempre all'improvviso e accadono anche a carico delle persone per cui meno ti aspettavi, usare la parola misterioso non è improprio. Io direi che non ci serve per analizzare la figura, il comportamento, il passato, il probabile futuro di Conte, perché in tutto sommato ogni volta che è stato necessario rendere conto di quello che avrebbe fatto e che stava per fare e che aveva fatto, è stato capace di farlo con chiarezza e con coerenza. Questo non è un paese così legato alla chiarezza e alla coerenza. Giustamente è stato fatto il riferimento a Prodi, ma tenendo ben presente il valore culturale e l'esperienza scientifica anche e non solo politica. Ma Conte sarebbe un buon leader per il centro-sinistra, Furio Colombo? Sarebbe un buon leader per il centro-sinistra, Conte? Non ho capito, scusami. Sarebbe un buon leader per il centro-sinistra, Conte, in caso di voto anticipato? Si porrà questo tema? Io credo che potrebbe anche essere un buon leader per il centro-sinistra. È il centro-sinistra che in questo momento non è preparato ad avere un buon leader. Se per caso si rasserenassero i piccoli fulmini e le piccole tempeste che si aprono continuamente sul versante del Partito Democratico, ecco, in quel momento miracoloso, un bravo, normale avvocato, capace di prendere in mano una causa e di far valere ciò che si deve far valere, credo che sarebbe un buon leader. Allora, aspetti che interpello intanto la professoressa Talquini. Sarebbe un buon leader per il centro-sinistra? Penso che sarebbe un passo indietro del centro-sinistra nella sua capacità di presentare un leader. In fondo la storia, lei si chiedeva se esiste in qualche modo un'anomalia o un mistero. Io pensavo, appunto, mentre ascoltandovi, pensavo che di fatto non è la prima volta negli ultimi venti, anche più ormai anni, che la politica si rivolge ad altri. Pensiamo, non lo so, al sindaco di Napoli, possiamo... Questa idea della politica come una non-professione. In fondo da Berlusconi in avanti siamo abituati a pensare che se qualcuno si è occupato da altro, ha fatto altri mestieri e poi si dedica alla politica, questo forse è anche un fatto positivo. È una garanzia in qualche modo. È una garanzia, quindi c'è una continuità. Non è così strano, non è così misterioso. Poi, rispetto, prima parlavate di Prodi, no? Mi veniva in mente il cattolicesimo liberale. In fondo, Conte è questo. E quindi, è vero, ci possono essere dei punti di contatto con un'esperienza che è il cattolicesimo democratico e la sua storia è cattolico. Ma, se pensiamo, appunto, non lo devo raccontare io, certo, all'onorevole Zampa, ma l'esperienza di un'esperienza democristiana e poi anche all'Ulivo e poi a un mondo che raccontava un pezzo di paese importante, un consenso, no? La democrazia cristiana è stata un partito radicato e che ha costruito la storia di questo paese. Qui forse stiamo cercando di sottolineare che dietro l'esperienza di Conte non c'è tutto questo, magari ci sarà nel futuro, fino ad oggi non c'è la storia di un movimento politico o di un progetto politico. C'è la mediazione di interessi, che non è tutto in politica. Onorevole Zampa, le posso chiedere, lo chiedo a voi ragazze presenti questa sera in questa puntata di 8 e mezzo. Siccome lo sappiamo che in politica, naturalmente, contano moltissimo le apparenze, i modi, l'aspetto, molti sostengono che Giuseppe Conte sia anche un uomo elegante, un uomo affabile, un uomo attraente. Lo pensa anche lei? Che tipo di messaggio le trasmette? Sicuramente un uomo rassicurante e credo che questo sia un altro elemento in comune. Quando il presidente Prodi vinse le elezioni uscì uno studio che dimostrò che la maggioranza delle donne aveva scelto Prodi rispetto a Berlusconi e che questa scelta era stata determinata dal fatto che si sentivano rassicurate. Il presidente Conte, secondo me, è rassicurante. Certamente, guardi, io ho due sorelle e spesso discutiamo di questa cosa e mi colpisce che, per esempio, una delle mie due sorelle apprezzi moltissimo l'eleganza e l'educazione. Questo fatto, che anche è stato sottolineato, in questo caso anche da Furio Colombo, è di non lasciarsi andare agli insulti, all'odio, a questo eccesso di violenza a cui credo, secondo me, questo Paese faccia fatica davvero ormai a reggere. Ecco, che credo questo Paese faccia fatica a reggere. Credo che sia un elemento importante. Certamente c'è anche un'educazione, devo dire anche una disponibilità del presidente Conte, che io ho verificato personalmente. Non mi è mai capitato di partecipare a una riunione dove si discute di problemi dell'infanzia a cui un presidente del Consiglio stia per più di un minuto. Il presidente Conte ha partecipato a più di un incontro discutendo dei temi dell'infanzia. È una cosa, un piccolo dettaglio, però certamente è un dettaglio significativo. Lei diceva prima che quando Prodi vinse nelle elezioni contro Berlusconi la maggioranza delle donne aveva votato per lui. Anche Salvini ha avuto tantissimi voti da parte delle donne e sono due modelli completamente diversi. Assolutamente sì, magari non saranno la maggioranza. All'epoca per Prodi furono la maggioranza, dopodiché, come le ho detto, le differenze tra le due personalità, le due storie sono gigantesche, ma sono proprio i progetti. Ho sentito evocare soprattutto la democrazia cristiana. Io credo che per il presidente Prodi la costruzione del progetto Ulivista con una prospettiva e un'ambizione per il paese, il maggioritario, il bipolarismo, le primarie, tutte le novità politiche che hanno fatto una stagione molto importante della storia politica italiana. Allora, Marianne Aprile, chiedo anche a te che tipo di messaggio trasmette a te l'uomo Conte? Devo avere l'antenna rotta, non mi trasmette nessun messaggio da quel punto di vista, no. E tra l'altro appunto penso che sia anche, come dire, una notazione che lascia il tempo che trova, proprio perché poi nel 2019 le donne votavano soprattutto Salvini che antropologicamente è agli antipoti, è quello più sopra le righe, più grezzo, con rispetto parlando rispetto alla pochette con le cinque punte di Giuseppe Conte. Ha un'aria, sì, è ben educato, è rassicurante, però se posso cinque secondi a proposito del parallelo con Romano Prodi e la ricerca del leader della sinistra. Romano Prodi batte alle urne, non nei sondaggi, Silvio Berlusconi per due volte e la sinistra fece benissimo a meno di lui, in maniera del tutto irriconoscente nonostante le due vittorie. Quindi, diciamo, ritornando al discorso che si faceva, l'aver contrastato in quel 20 agosto 2019 Matteo Salvini al Senato non dovrebbe costituire Pedigri per essere un credibile leader della sinistra, cioè, insomma, di solito si costruiscono nelle UO, nelle leadership. C'è anche il fascino, evidentemente. A fascino il Centro del Consiglio Conte, professore Tarquini? Su di me no, ma al di là di questo, al di là della valutazione personale, no, un po' mi colpisce, credo sia giusto anche questo, ma mi colpisce che siamo tutti, come dire, attenti anche a questo stile, no? Stiamo parlando dell'educazione e quanto raccontava l'onorevole Zampa è certamente un fatto importante, però siamo molto concentrati appunto su come si vestono, su come parlano, se non alzano la voce, no? Di fatto stiamo parlando di che cosa? Della politica di un leader? Ecco, forse siamo talmente in difficoltà nell'immaginare altro che ci dobbiamo appunto concentrare sulla, come dire, dati... Però, insomma, abbiamo visto, scusi se l'interrompo, insomma, abbiamo visto per quattro anni Trump, che diciamo in quanto a pacatezza, buona educazione, stile, diciamo, stile... No, 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 ma non lo dicevo ironicamente, cioè sono fatti reali. Quando appunto l'onorevole Zampa parla della partecipazione ad una riunione su tematiche che solitamente non vedono la presenza dei presenti del Consiglio, esprime un fatto importante. Mi chiedevo appunto, però, mi sembra che nel caso di Giuseppe Conte questo sia ben evidente, cioè appunto l'eleganza, la pacatezza, come elementi caratterizzanti una leadership. Ecco, quando la forma è anche sostanza, no? Furio Colombo, allora a te non... faccio invece una domanda sul tuo ultimo libro, perché è anche attualissimo, visto che parli dell'America che tu ben conosci, e pochi giorni fa il nuovo... La scoperta dell'America. Il titolo è La scoperta dell'America, pubblicato da Aragno, e Trump non ce l'ha fatta ottenere il secondo mandato, no? E si è insediato invece l'altro giorno il democratico Biden. Secondo te, che cosa potrebbe insegnare questa storia recente americana alla politica italiana? Ma intanto vorrei dire che cosa potrebbe insegnare alla politica americana, perché è accaduto che gli americani, e parlo degli americani di centro e di sinistra, che noi avremmo sempre giudicato, noi i filoamericani, noi i frequentatori dell'America, noi i viaggiatori sempre lodati per la loro bravura a capire e a sapere, non avevamo capito e saputo che un americano su due avrebbe votato per Donald Trump. Questo è un fatto gravissimo che è accaduto negli Stati Uniti, un fatto gravissimo che colpisce coloro che si sono vantati, vedi anche il mio libro, di conoscere l'America e di sapere tutto dell'America. Bene, noi di Trump non sapevamo, e del vero e proprio tradimento che Trump ha portato a termine contro il suo paese, non sapevamo. È evidente che un problema di questo genere grava su di noi anche nel nostro paese. ci sono delle cose che debbbero accadere in un momento e le prendiamo sotto gamba. Per esempio questo crescere apparentemente lento e apparentemente indiretto del fascismo nella vita italiana, tra i ragazzi italiani, negli eventi italiani, è lo stesso fatto che un partito importante nel paese del 25 aprile, nel paese dove stiamo per ricordare il giorno della memoria, in questo paese un partito importante di cui si fa subito citazione nel momento in cui si discute di politica è Fratelli d'Italia, cioè un partito con angolazioni e orientamenti che non rifiutano il fascismo. Bene, in questa situazione noi dobbiamo dire loro, i nostri amici americani, devono stare molto attenti a quello che può accadere nel loro futuro e non dare per scontato di essere la democrazia automatica che si compie sempre come un miracolo. Lo stesso dobbiamo fare noi, un paese nato dalla resistenza e che non deve e non può dimenticare, specialmente nel giorno della memoria, che è un paese nato dalla resistenza. Ecco, Fulio Colombo ha aperto un capitolo che ci richiederebbe almeno un'altra puntata di 8 e mezzo, anche perché abbiamo qui una storica del fascismo come la professoressa Tarquini, ma direi che avete un invito per un'altra puntata su questo tema. Io intanto però vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo parlato di Conte, forse farà un partito, forse non lo farà, ma gli converrebbe? Ce lo spiega Pagliaro nel suo punto, guardate. Salvini voleva le elezioni e ha fatto nascere un altro governo, Renzi voleva un altro governo e rischia di provocare nuove elezioni. È difficile il mestiere del leader nella stagione della post-politica, quella che da una trentina d'anni decide in Italia gli affari pubblici dopo essersi sbarazzata di ideologie, appartenenze e memoria. La post-politica, titolo di un pamflet pubblicato in questi giorni da Fabio Salamida per le edizioni Cooper, è una degenerazione del rapporto tra l'uomo e il potere, un rapporto ora diventato sbrigativo e insofferente, che non conosce mediazioni e tempi lunghi, si nutre di consenso ottenuto con ogni mezzo e sostituisce gli uffici studi con gli uffici stampa. La post-politica nasce dalla delegittimazione della politica e prevede che non siano più i partiti ad esprimere i leader, ma che siano i leader a creare i partiti. Cosa che prima o poi potrebbe accadere con l'attuale Presidente del Consiglio. Non sarebbe la prima volta nella storia recente. Come ha ricordato su InPiù.net il sociologo Giuseppe Roma, ci sono almeno due casi relativamente recenti di capi del governo cosiddetti tecnici che hanno fondato un proprio partito. Lamberto Dini, dopo essere stato al potere per 387 giorni, con il suo rinnovamento italiano alle elezioni del 1996, prese il 4,3%. Fece molto meglio Mario Monti che dopo 529 giorni di governo alle elezioni del 2013 ottenne con la sua scelta civica l'8,3% alla Camera e il 9,1% al Senato. Due precedenti che Giuseppe Conte certamente non ignora, anche se è probabile che i suoi obiettivi siano più ambiziosi. Allora, siamo in chiusura. Grazie onorevole Sandra Zampa, la riconsegniamo al suo importante, prezioso lavoro contro il virus e oggi invece è stata, ci ha portato riflessioni sulla politica, la politica di queste ore, di questi giorni, sempre con uno sguardo verso il futuro. Intanto grazie, buon lavoro. Grazie Mariana Aprile, grazie professoressa Tarquini, e grazie Furio Colombo. Ricordo il tuo ultimo libro, La scoperta dell'America, pubblicato da Aragno, per chi vuole capire qualche cosa di più di questi Stati Uniti che tanto importanti sono sempre stati e lo sono tanto più in un momento come questo. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio alla nuova serie di Licia Colò, Eden, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo. Arrivederci.